Il primo evento con la mascherina è solo il compito per portarvi i saluti di Pordenone Legge e dare il benvenuto ad Alberto Bertoni che è critico, professore di letteratura italiana contemporanea e non solo all'Università di Bologna è uno studioso brillante, bravissimo del verso libero di giudici della poesia del Novecento che l'anno scorso ho raccontato in un bellissimo libro uscito per Marietti e è anche poeta, bravo poeta ricordo le sue raccolte dal tema dell'Alzheimer e del rapporto con il padre e quest'anno è uscito con un libro molto bello, molto complicato che è una delle questioni centrali anche della poesia e della poesia del Novecento il rapporto con il male una questione finale come si rapporta la poesia rispetto al male assoluto ad Auschwitz e allora come si risponde a questa poesia a questa domanda e al peso che anche quella nota frase non si può fare poesia dopo Auschwitz forse mal interpretata come lui ci spiegherà e con le sue riflessioni a partire da filosofi e poeti ci guiderà in questo percorso e sentiero difficile e bello Alberto Bertoni Grazie a Roberto Cescon di queste parole grazie a Pordenone Legge quest'anno addirittura di avermi posto proprio sul confine del suo inizio sulla sua soglia d'inizio io credo di dovere proprio sulla base anche di quello che ha detto Roberto alcune spiegazioni allora intanto so che devo parlare 50 minuti per ragioni di riprese poi magari quando le riprese finiscono se avete domande da pormi io ovviamente rispondo molto volentieri perché io non sono uno studioso dell'olocausto della Shoah come è giusto dire non ho nessuna traccia di religione ebraica nel mio albero genealogico perlomeno risalendo almeno ai trisnonni e quindi non sono ebreo di origine o di memoria non sono un tipo credente quindi la mia non è una ragione religiosa però forse alla fine lo diventa devo dire due parole sulla storia anche di questo libro perché nel 1997 io mi accorsi che mio padre stava completamente perdendo la memoria e perdendo l'orientamento e sarebbe poi stato diagnosticato di Alzheimer alcuni anni dopo nel 2001 proprio poche ore prima dell'11 settembre del 2001 e lì la mia vita cambiò proprio come protocollo come modi di assistenza eccetera fino alla sua morte avvenuta il 5 gennaio del 2006 però un giorno una sera del 97 io mi accorsi che lui non si orientava più mi chiese un'indicazione dentro nel cuore della nostra città di origine che è Modena uno a Modena come a Bologna ricordava Lucio Dalla non si perde non si perde neanche un bambino figuriamoci una persona come mio padre che realmente era sempre vissuto lì e conosceva Modena come le sue tasche e quindi il fatto che una certa sera mi abbia chiesto un'indicazione per tornare a casa per me fu l'evento shock che mi portò in un'altra dimensione quella dell'accettare del rapportarmi alla sua perdita di memoria a quel punto ci fu come una reazione istintiva istintiva e sul momento distruttiva perché così come la Shoah è stato l'evento più distruttivo di tutta la storia occidentale che conosciamo l'Alzheimer è l'evento più distruttivo nella vita di una persona e anche della sua famiglia io ero impegnato in qualcosa di molto importante di molto quasi decisivo per la mia carriera di ricercatore di studioso Giovanni Giudici mi aveva affidato la curatela da solo del meridiano di tutte le sue poesie erano più o meno sì nel 96 97 quegli anni lì avrei dovuto consegnare tutto nel 99 e per la prima e per fortuna unica volta nella mia vita di studioso io venni meno a quel contratto firmato con la Mondadori soprattutto a quell'impegno che avevo preso con Giovanni Giudici uno dei più importanti poeti del 900 ma soprattutto con me stesso non sono uno che dà bidoni se ho un impegno professionale magari lo assolvo come tutti nei limiti delle mie possibilità ma non è che stia a casa o dica che ho la febbre come oggi sarebbe anche giusto dire qualche volta e cose di questo genere lo assolvo e invece a un certo punto nell'estate nella primavera del 98 io venni come preso da una furia e continuando a mantenere ovviamente il mio impegno di insegnamento all'Università di Bologna quello era il mio primo dovere non sono mai venuto meno ho cominciato a occuparmi a studiare quasi maniacalmente tutti i libri che trattassero i libri i poeti i filosofi gli scrittori che trattassero di Shoah allora poi si diceva ancora olocausto e perdendo l'occasione del Meridiano perché a un certo punto venni cacciato ovviamente da giudici e dalla Mondadori e il Meridiano l'ha curato peraltro in modo molto positivo l'amico e studioso Rodolfo Zucco io a un certo punto ho studiato soltanto questa questione perché sentivo come una specie uso il termine kantiano non prendetelo in modo troppo retorico di imperativo categorico a occuparmi dell'evento della storia occidentale che dovesse a tutti i costi essere ricordato mi sono chiesto realmente che cosa potevo fare per colmare questo precipizio questo disastro della memoria di mio padre che se ne andava che svaniva giorno dopo giorno non solo la memoria ma proprio la capacità di orientamento nel reale dopo pochi mesi non mi riconosceva più come figlio essendo io figlio unico che conviveva con lui quindi tenete conto di questo e ovviamente ero interessato già fin da ragazzino quando avevo letto le medie inferiori se questo è un uomo di Primo Levi e il diario di Anne Frank che allora si leggeva nelle medie inferiori insomma scelsi di occuparmi di olocausto produssi un saggio che uscì in due occasioni prima in un mio libro direi del 98 e poi un po' ritoccato in una miscellanea di studi sulla storia culturale dei paesi del Mediterraneo nel 99 se non ricordo male da Bruno Mondadori insieme ad altri saggi intitolato l'olocausto e l'identità letteraria allora ripeto si diceva olocausto e non Shoah il saggio è stato uno delle peggiori sconfitte della mia vita di ricercatore e di studioso non so se per contrappasso di quel mio avere mancato il contratto per le poesie di giudici con Mondadori e venne completamente ignorato tanto che lo lessero pochissime persone quelli che leggevano magari gli studenti che leggevano la mia raccolta di saggi lo saltavano perché non parlava direttamente di letteratura italiana quindi immaginavano che io all'esame non avrei chiesto la Shoah in effetti non l'ho mai fatto perché sarebbe come prendere lo studente e minacciarlo direttamente con un coltello quella miscellanea di vari studiosi come quasi tutte le miscellane finì completamente nel dimenticatoio io continuai come ha detto molto bene Roberto Cescon a occuparmi in modo sempre più sistematico di metrica e poi soprattutto di poesia contemporanea tanto che dopo ho prodotto tre libri due per il mulino e quest'ultimo per Marietti sulla poesia contemporanea che hanno avuto invece molto riscontro li ho presentati tutti qui a Pordenone legge sono stato invitato hanno preso dei premi eccetera eccetera ma la mia parte di studioso della Shoah era stata rifiutata anche dai miei interlocutori più diretti dai miei colleghi dai miei amici e questa è rimasta per me una spina nel fianco soprattutto dopo che poi l'avventura di mio padre è finita io ne ho parlato in quel libro di poesie che pure Roberto ha ricordato che è ricordi di Alzheimer dopo l'Alzheimer è diventato un tema della mia poesia che ha occupato gli anni a venire che tuttora è ancora abbastanza vivo non è più il tema dominante ma insomma è un tema abbastanza vivo finché la Shoah l'Olocausto è diventato addirittura un genere letterario negli anni 2000 forse per reazione anche a questa tendenza della nostra società alla dimenticanza questa tendenza addirittura al negazionismo lo vediamo a tutti i livelli a dire no ma certi fenomeni certe cose o non sono accadute o se sono accadute erano molto molto meno forti di come poi sono state scritte cantate definite raccontate morale approfittando di un rapporto di mia moglie con la CGL di Modena nel 2015 sono salito un bel pomeriggio di primavera su un treno e ho partecipato a questa cosa che tra Modena e Bologna si continua a organizzare spesso del cosiddetto treno della memoria e sono andato ad Auschwitz-Birkenau appunto in treno con un viaggio interminabile infinito e sono andato sul luogo della Shoah questo mi ha risvegliato molte percezioni non dappertutto ad esempio Auschwitz in sé sì ci hanno messo il museo con gli occhiali con i capelli e quello è molto impressionante però Auschwitz in sé dove c'è scritto Arbeit Macht Frei non fa tantissima impressione nel senso che erano caserme dell'esercito polacco di fine ottocento in pietra rossa l'insediamento in sé non è impressionante più di tanto quello che è veramente impressionante è Auschwitz-Birkenau dove c'erano i crematori dove ci sono le betulle dove sai che la terra che tu calpesti è intrisa delle ceneri di 3 milioni di morti gassati nelle camere a gas soltanto lì e poi bruciati soltanto lì a Birkenau e questo è stato uno shock molto forte molto particolare insomma a un certo punto io mi sono accorto che quel saggio del 99 non era compiuto e allora ho chiesto al mio editore diciamo di fiducia che è un editore di poesia book quello appunto per cui ho fatto tre edizioni dei ricordi di Alzheimer di provare a trasformare in libro il saggio lui come sempre perché è un uomo molto prudente nel fare l'editore un caro amico si chiama Massimo Scrignoli dice sempre di no all'inizio quando gli fai una proposta e poi il giorno dopo ti telefona e dice ma però se la si mette in un certo modo forse allora insomma è il suo modo per dire di sì e allora alla fine proprio in questo 2020 lavorandoci per gran parte del 18 e del 19 ho riscritto completamente ampliandolo non in modo sistematico perché sarebbe stato impossibile ho riscritto il mio saggio su Auschwitz è un saggio a ragione Cescon non immediatamente facile perché è un saggio che discute della poesia che è venuta fuori da Auschwitz cioè dal grande poeta della Shoah che è Paul Celan di cui poi vi racconterò la vicenda è realmente emblematica è il luogo dove si incontrano una biografia a sfondo tragico e un'esperienza diretta della storia e una qualità poetica straordinaria inimitata e inimitabile vi leggerò anche un paio di suoi testi non è un libro immediatamente solvibile così non è scritto nello stile postmoderno di oggi perché faccio i conti anche con certe espressioni filosofiche oltre che con la storiografia e con la letteratura che è venuta fuori da Auschwitz vedete io credo non so se sono stato condizionato in questo dalla mia esperienza scolastica io ho fatto tante cose Cescon ne ha raccontata qualcuna l'unico mestiere nel quale mi riconosco e che ho ancora voglia di fare per cui ho ancora voglia di andare tutti i giorni all'università nel traffico tremendo che c'è fra Modena e Bologna da pendolare questo fino a alcuni mesi fa poi l'ho fatto online da casa mia ma spero che finisca che mi induce a fare questo percorso tutti i giorni ed è la mia vocazione all'insegnamento io credo moltissimo l'unico ruolo che mi piace di me stesso è l'insegnamento è l'insegnare è il rapporto con questi ventenni molto indifesi molto fragili che sono molto più intuitivi di quelli della mia generazione mi rivolgo anche ai ragazzi che sono qui che quando gli presenti una metafora anche ardua anche complicata di poesia moderna e contemporanea sono disponibili a intuirla a intenderla a dargli una risposta a scioglierla in un modo che tu non ti aspetteresti mai e questo è il bello ma sono completamente idiosincratici alla prospettiva storica dei fenomeni la storia e il racconto della storia è l'elemento più fragile al momento presente nella nostra tradizione occidentale se io voglio mettere in difficoltà un ragazzo all'esame e qualche volta mi capita di farlo perché gli esami sono delle meccaniche appunto drammaturgiche a due personaggi a volte inquietanti perché in un quarto d'ora devi capire una preparazione lunga un anno io chiedo una data di uscita di un libro o chiedo una data di nascita e di morte di uno scrittore viene completamente ignorata una in modo molto duro che stava andando perfettamente ha preso il coraggio a due mani mi ha guardato dritto in faccia ma cattiva una ragazza e mi ha detto ma scusi è importante avevo chiesto l'anno di uscita degli ossi di seppia e a quel punto più duro di lei ho dovuto dire importantissimo perché è il 1925 quando il fascismo diventa regime eccetera eccetera e a quel punto libro d'esordio di Eugenio Montale a quel punto lei non ha più potuto replicare nulla ecco se venisse se mai verrà dimenticato l'olocausto la Shoah questo sarà veramente un disastro per la coscienza per la cultura per la letteratura per la filosofia per la storia di tutto il mondo occidentale perché la Shoah è la ferita non ancora rimarginata di noi uomini e soggetti occidentali figuratevi io sono di Modena il punto di raccolta di coloro che venivano deportati era Fossoli che è una frazione alle porte di Carpi appunto in provincia di Modena dove venivano radunati in questo campo di transito e poi inviati attraverso i binari del Brennero direttamente nei campi di sterminio quindi figuratevi i casellanti intorno a casa mia i miei stessi parenti modenesi sentivano questi vagoni correre nella notte e andare a Fossoli e poi di lì ad Auschwitz nessuno è stato innocente in questa vicenda e allora io mi sono chiesto perché e mi sono chiesto come e ho pensato ovviamente con gli strumenti del mio mestiere ma questo mi è stato poi dimostrato dagli scrittori che ho studiato scrittori e scrittrici che ho letto mi è stato dimostrato da loro come forse solo la letteratura con la sua capacità di elaborazione simbolica di ricostruzione anche narratologica di immaginazione e di figurazione costruita attraverso le metafore e le altre figure retoriche attraverso i suoi strumenti tecnici cioè attraverso i suoi strumenti linguistici solo la letteratura riesce ancora forse a propagare la memoria l'esperienza e a renderla comprensibile perché il rischio è veramente quello di arrendersi e di ritenere la vicenda di Auschwitz qualcosa di incomprensibile qualcosa che è accaduto che è finito alcuni dicono i suoi effetti sono diluiti nel tempo ormai sono passati dunque 75 anni dall'apertura dei cancelli di Birkenau da parte dell'Armata Rossa e io invece credo che questo fatto non sia assolutamente finito non abbia finito il suo influsso e che corriamo realmente quotidianamente il rischio concreto che qualcosa di simile si propaghi ancora accada ancora d'altronde i genocidi non sono finiti e d'altronde ogni volta ogni giorno la cronaca ci offre qualcosa che è comunque apparentabile a quello che è l'esperienza ma soprattutto l'organizzazione del male assoluto di quello che è stato chiamato il male assoluto io adesso non vi tedierò con la riflessione diretta di certi fenomeni e di certe di certe voci vi racconterò per sommi capi quello che in fondo il mio libro racconta sono poi paragrafi brevi ognuno di loro è abbastanza facilmente leggibile e quindi insomma alla fine è un libro credo credo fruibile in ogni caso allora primo elemento primo elemento che però ritengo fondamentale secondo voi perché teniamo conto che primo Levi non era uno scrittore quando è andato là in quanto partigiano ed ebreo nel 1943 in una retata sulla montagna piemontese ovviamente un ebreo non va in un carcere comune ma va direttamente ad Auschwitz perché primo Levi quando presenta scrive di getto tornato dopo un anno lo racconta nella tregua il suo secondo romanzo scritto di getto se questo è un uomo è proposto all'editore in Audi cioè l'editore progressista democratico torinese che stava affermandosi grazie al lavoro di redattori quali Cesare Pavese Italo Calvino ed Elio Vittorini come il più importante editore di cultura italiano nel 1947 rifiuta se questo è un uomo badate che questo è il primo interrogativo semplicemente editoriale quindi un dato storico letterario concreto e sapete credo lo sappiate chi firma il resoconto di rifiuto di se questo è un uomo con la motivazione speciosa che era un libro in parte inventato era un libro dove si immaginava un male che non era stato tanto male Natalia Ginzburg scrittrice alias Natalia Levi omonima di Primo vedova di Leone Ginzburg e quindi una scrittrice tra l'altro che poi sarebbe diventata io difendo molto la qualità letteraria di Natalia Ginzburg che tra l'altro è una delle scrittrici oggi più amate dai miei studenti di oggi ho veramente una caterva di tesi dedicate al lessico familiare o dedicate alla famiglia Manzoni dedicata ai suoi libri più importanti e più interessanti quindi non sto parlando di una scrittrice fallita o di un nome minore della nostra letteratura Natalia Ginzburg nel 1947 scrive una relazione per Einaudi e quindi per Pavese che era il direttore editoriale in cui rifiuta Se questo è un uomo dicendo che era un libro con troppe invenzioni troppo fantasioso perché la realtà non poteva essere così brutta Levi ovviamente rimane basito da questo rifiuto e si pubblica Se questo è un uomo a spese proprie come un poeta minore di oggi pagando un editore minore perché? Non per un'invidia professionale non credo erano tutte e due debuttanti nessuno di loro due né Primo Levi né Natalia Ginzburg aveva ancora pubblicato qualcosa di significativo nel 1947 Levi poi era stato ad Auschwitz era un chimico non era mica uno scrittore perché di Shoah non si parlava ancora nei termini reali dei sei milioni di morti e del sistema organizzativo tremendo che accoglieva le persone appunto dai centri di smistamento come fossoli già al vagone ci sono le foto e poi un tizio vestito in perfetta uniforme nazista con i guanti neri indicava a destra o sinistra a seconda che il deportato o la deportata potesse essere utilizzata per il lavoro nel lager oppure andasse direttamente a venire nelle camere a gas venisse direttamente ucciso non c'era cognizione di Auschwitz la cognizione di Auschwitz comincia a partire dal 1954 quando esce in Europa il diario di Anne Frank censurato come sapete dal padre depurato tagliato delle frasi dei passaggi dei paragrafi che non soddisfacevano l'orgoglio paterno perché è il diario di una ragazzina di un adolescente che non parla solo della minaccia incombente dei nazisti in quella soffitta olandese parla anche di se stessa del proprio approccio alla realtà del proprio processo di crescita ecco il diario di Anne Frank pur in questa versione scempiata tagliata censurata dal padre crea finalmente in Europa uno shock comincia ad andare nelle scuole e allora a quel punto c'è anche la resipiscenza e il pentimento dell'editore Inaudi il quale ricontatta Levi e dice beh quel libro che abbiamo rifiutato quasi dieci anni fa se ne può parlare però Inaudi era un uomo molto orgoglioso non faceva sconti e pensate un po' non pubblica Levi in una collana memoriale o narrativa se questo è un uomo è un grande racconto anche un grande romanzo uno dei grandi romanzi di tutta la tradizione occidentale come è ricordato e riconosciuto oggi lo pubblica nei saggi la prima edizione di se questo è un uomo è nei saggi e Inaudi cioè quelli con la corona rossa intorno e il cuore della copertina bianco dice ma è un saggio è uno che era lì ha riflettuto e ci regala questo saggio questo è il primo elemento e a quel punto la Shoah diventa uno dei grandi temi appunto io ero alla scuola media nel 66 fra il 66 e il 69 di Shoah si parlava già con una certa forza una certa decisione nelle antologie della scuola media inferiore quindi leggevamo se questo è un uomo altri testi e il diario di Anne Frank quindi rimozione fino a metà degli anni 50 per dieci anni la coscienza anche più alta europea rifiuta l'evento di Auschwitz poi ci sono gli elementi di fondo da cui è bene partire quelli che in qualche modo riconoscono anche certi negazionisti più prudenti l'antisemitismo che è una peculiarità del di tutta la coscienza occidentale gli ebrei che diventano oggetto di scherno di presa in giro i commercianti con l'interesse per il denaro eccetera eccetera un antisemitismo serpeggiante in tutta la coscienza della cultura occidentale le persecuzioni a cui nel corso dei secoli sono stati sottoposti tenete conto a proposito di totalitarismi che sono andato in visita a Varsavia c'è uno dei più bei musei della cultura della cultura ebraica un museo aperto nel 2015 che ha ricevuto subito il premio come più importante museo d'Europa più raffinato a tutti i metodi didattici più innovativi non lo fanno finire con la ricostruzione della strada del ghetto di Varsavia e quindi con la ricostruzione della Shoah polacca lo fanno finire con un consiglio del partito comunista polacco Gomulka era il leader allora del 1967 il quale se la prende con gli imperialisti con i nemici del regime con gli anticomunisti con gli Stati Uniti eccetera e alla fine dice una frase io ovviamente l'ho capita era in polacco l'ho capita dai sottotitoli in cui dice poi dice Gomulka ma proprio in chiusura noi non siamo antisemiti ma e c'è quel ma terribile che arriva lì proprio come un colpo vi accetta ma gli ebrei devono adattarsi al partito alle regole del partito perché tendono a essere autonomi sul piano insomma parte per un'invettiva contro gli ebrei per cui capisci che il climax il crescendo del discorso 1967 sono gli ebrei e mica gli imperialisti del mondo occidentale gli americani e così via quindi l'antisemitismo l'altro elemento che è un elemento mica da prendere da mettere così da parte perché oggi ne siamo realmente dal mio punto di vista funestati qualcuno invece può dire anche deliziati perché il dibattito è molto ampio è l'elemento del nazionalismo perché è il nazionalismo è la fondazione del Reich è l'idea appunto che la Germania diventi il perno il fulcro di un nuovo impero che possa raggruppare tutte le varie comunità europee nel nome della nazione e della lingua tedesca quindi ecco se noi vogliamo in qualche modo minimizzare la portata della Shoah nel suo dipanarsi storico nella suo fare memoria nel suo produrre necessità e io direi meglio obbligo di memoria partiamo pure da un antisemitismo di fondo che ha infestato tutta la cultura occidentale e forse non è ancora morto e da un nazionalismo di fondo che certamente come vediamo dai sovranismi oggi si chiama sovranismo ma insomma il fenomeno è sempre quello che tuttora sta attraversando diciamo così la cultura e la politica del mondo occidentale non ci basta ci sono altri due elementi che su cui dobbiamo riflettere e di cui si ha percezione appunto in questo viaggio del treno della memoria semplicemente camminando una mezza giornata per questa distesa di Birkenau il primo è l'elemento della razionalizzazione vedete citavo l'importanza della letteratura la letteratura anche se è letteratura da un punto di vista sbagliato come quello di Selin uno dei più grandi scrittori del novecento da me amati e continuamente riletti ma era dalla parte sbagliata era un un'antisemita molto violento questa dimensione che la letteratura è un termometro tremendo perché vi giuro che nessun reduce dei gerarchi nazisti che si sono salvati e che hanno comunque scritto composto le loro memorie nessuno per fortuna della nostra cultura è stato baciato dalla qualità della scrittura i loro libri sono tutti orrendi sembra di leggere dei cattivi feietton dell'ottocento l'esempio che voi potete prendere è quello del comandante di Auschwitz che si chiamava Rudolf Oess H O con l'umlaut e doppia S già nel nome c'era tutto quello che poteva fare che in queste memorie dice che dopo aver esterminato qualche migliaio di persone al giorno se ne va a casa si rilassa la casetta è ancora lì ad Auschwitz si rilassa e ascolta Mozart e Beethoven contraddizione tremenda del comandante di Auschwitz che si rilassa ascoltando Mozart e Beethoven vuol dire che non ci capiva niente che li usava appunto come le musichette di carosello perché se uno prova a capire Mozart e Beethoven davvero non ammazza il giorno dopo qualche migliaio di suoi simili ma la cosa più tremenda di queste memorie il libro si intitola Comandante ad Auschwitz e l'ha stampato più volte in Audi quindi lo trovate molto facilmente si vanta di sé nel capitolo più agghiacciante di avere risolto appunto un problema di razionalizzazione che era e che si pone ai nazisti non appena decidono la soluzione finale che badate bene viene decisa il 20 gennaio del 1942 a Van Zee un lago del circondario di Berlino non c'era Hitler ma c'erano tutti i gerarchi la soluzione finale la endlosung cioè non deve più sopravvivere nessun ebreo qualunque sia la sua ideologia la sua ricchezza la sua provenienza eccetera solo perché di credo ebraico non si può dire di razza ebraica non esiste una razza ebraica è un errore proprio scientifico tremendo di credo ebraico deve sparire dalla faccia della terra quindi anche coloro che avevano foraggiato il nazismo il fascismo e non erano pochi gli ebrei che ci avevano creduto la razionalizzazione di cui si vanta è la seguente c'era un problema di omicidi di uccisioni all'inizio li fucilavano fucilare decine di persone ovviamente prevedeva che zampillassero fontane di sangue che ci fossero delle emorragie tremende e ovviamente i plotoni di esecuzione che erano fatti di soldati semplici tra virgolette era gente come tutti noi non reggevano psicologicamente a prendere un fucile e ammazzare un proprio simile inerme faccia a faccia guardandolo in faccia e quindi dovevano essere sostituiti spesso si facevano curare per malattie nervose molti diventavano pazzi proprio perché ripeto se chiunque di noi fosse costretto ogni giorno a uccidere quel fucile decine di suoi simili a vederne il sangue zampillare ai suoi piedi non credo che resisterebbe allora S inventa appunto il rendere gassoso il ciclon B che era un veleno per topi prodotto dalla Bayer quelli dell'aspirina renderlo gassoso e quindi farlo passare nei tubi delle docce e procurare così una morte di massa priva di spargimento di sangue e priva di plotone di esecuzione e se ne vanta e dice ho avuto veramente una bella idea ho superato uno degli scogli che potevano essere problematici perché non potevi portare in infermeria psichiatrica interi plotoni di esecuzione ogni giorno quindi il principio di razionalizzazione quello che colpisce di Birkenau è proprio il meccanismo che fin dall'inizio fin da quando le persone scendevano in credule ignare con la loro valigia dal treno veniva deciso il loro destino il tempo della loro morte perché comunque non dovevano esserci superstiti e l'altro lato l'altro elemento e qui purtroppo la cultura tedesca al suo meglio peggio meglio sbarra peggio il principio della burocratizzazione il principio della burocratizzazione tutti erano schedati di tutti si sapeva perfettamente tutto tutti avevano la loro scheda e quindi in qualche modo il destino era assegnato anche in base alle loro competenze primo levi si salva per tre fattori coincidenti si sono salvati in poche centinaia si salva perché è chimico e quindi viene immediatamente mandato nella parte più diciamo meno tremenda di Auschwitz che era la fabbrica appunto di veleni e quindi viene mandato nella sezione chimica perché aveva questa competenza viene fatto lavorare lì si salva perché sapeva un po' di tedesco e quindi capiva gli ordini immediatamente molti si salvavano o non si salvavano a seconda che capissero l'ordine gridato in tedesco e poi si salva alla fine col colpo di fortuna più clamoroso perché quando arriva l'armata rossa portano tutti i superstiti che erano qualche migliaio in una marcia nel nulla a farli morire di sfinimento di fame di sete lui non può partecipare alla marcia perché si è preso due giorni prima la scarlattina e ha la febbre a 40 e quindi non può in nessun modo stare in piedi e rimane lì nel campo insieme con qualche altra decina di sopravvissuti per cui quando arriva questa staffetta che descrive se questo è un uomo di due staffette dell'armata rossa a cavallo che guardano dentro al campo e vedono questi sopravvissuti hanno la loro visione infernale girano il cavallo e raggiungono gli altri e poi i cancelli verranno aperti aperti dopo quindi il principio di burocratizzazione il principio di organizzazione perfetta nonostante la morte fosse l'unico finale accettato e progettato poi e qui veniamo all'ultima parte del mio intervento e mi scuso se mi sono dilungato ma insomma sono le cose che ho studiato e soprattutto poi che ho cercato anche di riscrivere con quello che avevo imparato nei vent'anni che sono venuti dopo dal 99 al 2019 in cui ho finito la versione in libro del mio saggio lontano nel tempo veniamo alla letteratura pongo alcune questioni che il libro cerca di approfondire quindi ve le do soltanto così come sono primo tuttora l'ho sentito ieri l'altro non più tardi di ieri l'altro tutti attribuiscono ad Adorno la frase la letteratura dopo Auschwitz è un atto di barbarie e qualcuno addirittura gli attribuisce la sentenza che lui in realtà se non l'ha detta in una conferenza però non l'ha mai scritta che non si può più scrivere poesia dopo Auschwitz se fosse così Adorno che è uno dei maggiori storici marxista eretico filosofo della scuola di Francoforte uno dei grandi metrapansè di tutta la cultura occidentale del secondo novecento insegnato a lungo nelle università americane scuola francofortese grande filosofo se fosse così se avesse davvero detto dopo Auschwitz non si può scrivere più nessuna poesia avrebbe detto una scemenza colossale l'ha detta Adorno però sarebbe una scemenza perché per nostra fortuna dopo Auschwitz sono state scritte ancora molte poesie anche di tema legato alla Shoah e anche molte bellissime poesie per esempio quelle proprio di Paul Selen a cui fra un momento farò riferimento allora la cosa mi ha insospettito sono andato a leggermi il punto ed è raccolto nel volume di saggi che si intitola Prismi che trovate stampato dai naudi anche ristampato dai naudi quindi lo trovate dove Adorno dice letteralmente io non so il tedesco ma me lo sono fatto tradurre da un'amica che lo conosce molto bene sono andato a vedere l'originale tedesco siamo alla fine degli anni 40 quindi ancora di Auschwitz non si ha la cognizione come vi dicevo prima che scatterà solo a partire dalla metà degli anni 50 Adorno dice letteralmente dopo Auschwitz non si potrà scrivere nient'altro che sapete il tedesco come poi è macchinoso e sistematico mette una doppia tripla negazione è una frase complicatissima quindi non dice non scrivete più poesie perché sennò siete dei barbari non dice così non si potrà non scrivere poesia che non sia barbarische dictung poesia barbarica attenzione non ha mica detto un atto di barbarie non ha mica detto se scrivi una poesia sei un fascista ha detto non si potrà non scrivere una poesia altro che non sia barbarische dictung cioè una poesia in una nuova lingua in una nuova forma in un nuovo linguaggio poetico non potrai scrivere una poesia puramente memoriale una poesia idillica una poesia lirica nel senso tradizionale un io sensibile che si rivolge a un tu assente perduto per sempre il modello petrarchesco io mi rivolgo a un tu quasi sempre fidanzato fidanzato o essere amato o parente molto stretto o amico strettissimo e ne canto l'assenza e dico i riverberi gli effetti di questa assenza dentro la mia sensibilità tutta la poesia lirica del mondo occidentale da Safo ai giorni nostri atto poesia barbarica fondata su una lingua nuova su una lingua diversa allora ci torniamo fra un momento primo elemento per scrivere di Auschwitz bisogna inventare una nuova lingua poetica bisogna inventare un nuovo soggetto bisogna molto probabilmente spersonalizzare l'io chi ha il potere di dire io davanti ai sei milioni di gassati l'io va sbriciolato si deve avere coscienza che l'io non può più essere un io monumentale un io intatto un io che ha una totale cognizione dei propri ricordi sistematici illuministici perfettamente sgranati l'uno dietro l'altro di un io che non abbia coscienza della propria parte interiore quindi della propria parte onirica questa è la nuova poesia che Auschwitz richiede mi segnalano che ho cinque minuti e li uso in questo modo quello che mi ha colpito a quel punto entrando davvero nella letteratura e mettendo un po' tra parentesi i filosofi i pensatori gli storici quelli come Adorno quelli come Levinas e i tanti altri e mi sono accorto che la letteratura in realtà ha due perni due vie due strade una che è nel suo DNA che è la strada della profezia e ho scelto tre testi prodotti nel primo quarto del novecento che prefigurano Auschwitz e la Shoah e sono Cuore di Tenebra di Joseph Conrad che forse molti di voi comunque ricordano per il film meraviglioso di Coppola Apocalypse Now quello con Marlon Brando che fa il protagonista che se ricordate finisce con la parola orrore che porta Auschwitz nella sua emanazione del Vietnam la peggior vicenda americana del secondo dopoguerra che sono il racconto nella colonia penale di Kafka Kafka era uno che aveva capito tutto guardate bene che è lo scrittore più attuale di tutta la coscienza e la cultura occidentale ed è uno scrittore che sa essere anche molto diretto nella colonia penale descrive esattamente letteralmente il meccanismo razionale burocratico della condanna a morte lì è un sistema di lame non è un sistema di camere a gas ma è questa macchina tremenda che fa a pezzi gli individui li affetta letteralmente e terzo l'ultimo capitolo straordinario quello che si intitola psicoanalisi della coscienza di Zeno di Italo Svevo 1923 ma scritto di getto appena finita la prima guerra mondiale nel 1919 dove come sapete il gioco non c'è più non c'è più la maschera di Zeno Cosini non c'è più l'inetto cattivo che poi alla fine vince sempre non c'è più quello che è l'ultima sigaretta lo schiaffone del padre sul letto di morte tutte le ironie meravigliose le parodie meravigliose di uno dei romanzi più belli della cultura occidentale ma finisce con un individuo più malato degli altri che a un certo punto premerà il tasto della esplosione nucleare dell'esplosione atomica ed è la prefigurazione di Hiroshima del 1945 che è poi un altro appendice di Auschwitz in realtà e poi date queste tre profezie che vi chiedo veramente di leggere o di rileggere perché sono testi che lasciano a bocca aperta col senno del poi l'ultima domanda sulla quale davvero vado a chiudere vi ringrazio dell'attenzione della partecipazione e mi scuso se vi ho annoiati l'ultima domanda è ma perché perché c'è tutta una letteratura anche di qualità molto alta prodotta da scrittori e scrittrici nati addirittura dopo Auschwitz com'è possibile allora che il racconto della Shoah venga fatto da persone per esempio della mia età con libri profondamente credibili letterariamente straordinari che mettono in gioco proprio quella dictung barbarische dictung di cui aveva profetizzato Adorno cioè inventano un nuovo linguaggio letterario faccio solo alcuni nomi a caso ma sono libri fondamentali uno scrittore è nato un anno prima di me nel 1954 l'israeliano David Grossman in quel capolavoro assoluto che è Vedi alla voce amore dove inventa tre lingue diverse un romanzo scritto in tre lingue in tre modalità stilistiche ed espressive diverse polifonico quant'altri mai c'è anche la lingua del bambino davanti ad Auschwitz capolavoro mai più raggiunto dallo stesso Grossman che ha scritto dei buoni romanzi dopo ma mai più di quella forza e di quella complessità e di quella barbarische dictung Anne Michaels una scrittrice canadese più giovane di me nel 1958 in fuga anche quello un libro meraviglioso sulla vicenda dell'olocausto Jonathan Littel uno scrittore americano nato addirittura negli anni 60 con quell'opera mondo anche quello un libro bellissimo contestato da alcuni perché è un libro problematico un libro che ti colpisce veramente colpisce il lettore allo stomaco che si chiama Le Benevole ed è pubblicato appunto da Inaudi tutta gente nata dopo e questo la grande qualità della letteratura allora per chiudere vi leggo un paio di anzi una poesia macula schlire macchia macchia nell'occhio di questo Paul Celan che è il poeta della Shoah nato nel 1920 in Bukovina di lingua rumena i genitori mandati ad Auschwitz lui che si cambia il cognome si chiamava Paul Ancel non vuole un cognome tedesco e lo francesizza Paul Celan dicono alcuni Paul Celan va a Parigi si salva a 20 anni 22 anni quindi si nasconde in un fienile riesce a sopravvivere è il poeta che prende la lingua dei persecutori il tedesco e la sbriciola la spacca la fa a pezzi applica il principio della barbarische dictung la rende barbarica sapete che il tedesco è fatto di molti prefissi e suffissi lui li spacca spacca le parole le fa esplodere malato psichiatrico a Parigi viene ricoverato spesso in clinica finché un giorno di aprile del 1970 a 50 anni si getta nella Senna e verrà ritrovato il giorno dopo a Saint-Claude in un'ansa della Senna si getta però dal centro di Parigi vi leggo questa poesia appunto che è una poesia emblematica e che dice tutto quello che ho provato a dirvi in modo che non richiede da parte nostra alcun intervento è la poesia dell'impersonale è la poesia dell'impossibilità di una coscienza coesa è la poesia che ci accomuna nella polverizzazione e nel destino di nullificazione che Auschwitz ha irradiato dentro tutta la coscienza europea e che deve ancora del tutto depositarsi macula nell'occhio a mezzavia gli sguardi discernono ciò che è perduto tramato di realtà il mai ora tornato vie dimezzate e le più lunghe fili percorsi dalle anime vitrea traccia ravvolti a ritroso ed oramai bianco velati da questo tu di occhi sulla stella che ferma ti sovrasta macula nell'occhio vedete la stella l'emblema per antonomasia della poesia cosmica della poesia lirica lirica pensate a leopardi le stelle la luna leopardiane diventa una macula nell'occhio diventa un difetto di vista diventa la vista quando siamo presi da un'emicrania molto forte che diventa come una specie di bolla luminosa e non vediamo più nitidamente i contorni macula nell'occhio affinché sia salvo un segno recato attraverso il buio dalla sabbia o ghiaccio di un'era estranea animato per un più estraneo eterno e come afona consonante vibrato dal cosmologico dal cosmico all'infinitamente piccolo e vedete il transfert la modalità di passaggio è assicurata dal linguaggio ma un linguaggio sbriciolato è addirittura ridotto alla singola componente della lettera afona consonante vibrato dell'eterno dato come maiuscolo ecco questa è la poesia possibile dell'olocausto e io vi ringrazio per l'attenzione e della presenza che Grazie a tutti.